Sì, abbiamo fatto un'ottima partita, oggi giocava gente che non giocava tanto tempo, siamo fatto ottime risposte, la squadra si è fatta trovare pronta, l'unica ingenuità è stato il mio errore che ha permesso loro il 2-1, però poi la squadra è stata brava a rimettersi in sesto e avere più occasioni di fare il 3-1 che loro il 2-2, quindi complimenti a tutti, siamo contenti, l'obiettivo era passare il turno, l'abbiamo fatto e ora adesso nella testa io ho ancora la voglia di rifarmi col Francoforte, quindi dobbiamo arrivare all'ultima partita perché secondo me possiamo prenderci il primo posto e dobbiamo crederci. Ci ho creduto io, non ci hanno creduto gli altri, insomma, tante volte bisogna buttarsi, crederci, sono andato col tempo giusto e è venuto fuori un bel gol, sono contento, perché comunque a me l'Europa League porta bene, non so, c'è una media pazzesca, però è una competizione che mi piace giocare in Europa e stiamo facendo bene, dobbiamo cercare di andare avanti il più possibile perché l'anno scorso la finale dovevamo prenderla noi e non il Marseille.